Coronavirus in Campania è allerta per l'indice di contagio e ricoveri in netta risalita. Il rischio è quello di un passaggio da lunedì in zona rossa se il trend nei prossimi giorni confermasse l'inquietante impennata di casi. Sono infatti 2046 nuovi positivi al Covid in Campania su 15.260 tamponi analizzati. Il tasso di positività è del 13,4% più alto rispetto a quello di ieri, che era del 12,96% e di domenica che era al 10,5% circa. Sui contagi che aumentano intanto pesa anche la presenza massiccia di variante, inglese e brasiliana del virus, l'aumento dei focolai ultimo in ordine di tempo, quello nel carcere di Carinola nel Casertano che ha fatto 30 infetti e 3 morti e infine il progressivo crescente stress del sistema sanitario con l'aumento dell'occupazione delle terapie intensive e subintensive e dei posti di degenza, in particolare nell'area sud di Napoli, Castellammare e zona sorrentina e nel Casertano. E spunta anche la preoccupazione per le scorte di ossigeno vendute in farmacia. Per ora, spiega il presidente dei farmacisti di Napoli, Vincenzo Sant'Agata, non ci sono problemi, ma in alcune farmacie è stata riscontrata la carenza di bombole. Siamo in una fase di allerta e in questi ultimi giorni sta aumentando la richiesta di ossigenoterapia da parte dei pazienti in farmacia. Sono due le possibilità, facilitare la remissione delle bombe nel circuito della filiera dell'ossigenoterapia oppure incrementare la dotazione da parte delle aziende produttrici dei cosiddetti fossili. Preoccupano i dati in arrivo dall'asle di Caserta, che individua una trentina di comuni da collocare in zona rossa a causa dell'incremento dei contagi.